Grazie. 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 presents. apuri, waz merda. she's a really good leaderHHH from her team. right in christ center of life for children. I'm going to live now for the eastern region. Dr. She'sbe and dream is we want to forever. C'è un padre, lui? C'è un padre del compaord? Ah, lui. Ah, lui è un padre? D'agità un padre. Ah, lui è il suo france. Ah, lui è il suo padre. Ah, lui è di fare le parente? Ah, lui è suo padre. Ok, lui è giuste. Questa è la stessa. Perché il te è stato di usso? È il mio primo primo, il mio primo primo è stato di B19 il mio primo primo è stato di usso e poi ho parlato della stessa qua in Westing Ridge dove i nostri campi dove i nostri campi dove i nostri campi in cui è stato fatto per qualche anno Non. Ma io sono un figlio. E il mio padre è un figlio quale è un figlio, ma non ci siamo ancora. Non. Ma non. Ma non è un figlio, non è un figlio. Non. Si, io ero. E' un figlio. Si. Passa. L'amore che si tratta. Ora, come? I amato a S.S. I amato a S.S. S.S. Sinonese. Sono a S.S. Io faccio il business studies. E cosa vuoi fare? No, non. Quando io ho avuto il bambino, io ho avuto il scuole, io ho avuto il CSI, io ho avuto il bambino, io ho avuto il bambino, io ho avuto il business, io ho avuto il business. Io ho avuto il Bambino, l'Università for Development Studies, e lo ho avuto il campus. Io ho avuto i corsi e oilutico social science education su major management. Ok, ok. Questa è la sua situazione? Questa è la sua situazione. No, io ho avuto il bambino, io ho avuto il優heno. Quindi l'ho avuto il bambino. Come ho avuto il bambino. Il vostro lavoro. Il vostro lavoro. Io ho avuto il bambino. perché mi chiamato con i ragazzi e non mi chiede il nostro canale. Non c'è un'escalante, ormai non c'è un sacco. Non c'è un sacco, non c'è un sacco, ma c'è un sacco. Non c'è un sacco. Non c'è un sacco, non c'è un sacco. Perché come lavorare fino al nostro corso spettivo? Perché non ci sono alcuni. Perché non ci sono alcuni. E' una mia figlia. E' una cosa che ha fatto. E' un'occhio. Perché anche lei ha fatto usare. E' un'occhio. Perché sono un'occhio per le perezza. Perché sono un'occhio per le perezza. Perché sono un'occhio per i perezza. Perché non c'è quella che mi ha fatto. Stoce fai un pezzo, non ? C'è un problema. Il fatto che a noi abbiamo presso la chiesa, dicendo che inizia il corpo l'abbia a venire. L'abbiamo che abbiamo fatto noi ne abbiamo fatto una cosa e abitare. Lo abbiamo fatto che abbiamo potuto avere una chiesa che ci pensano e abbiamo messo qui inizia il nostro corpo L'abbiamo ordealmente quella l'abbiamo a intimizzare e mi quando chiede a prendere un corso di un corpo E' stato detto che avevano un po' di più di più di più di più di più di più. e quindi vivendo con questo, per quanto riguarda? quindi, da circa 30 anni, i ragazzi sono 13 anni, 14 anni, i ragazzi sono quasi 30 anni, quindi è stato un po' 80 anni, è stato un po' 80 anni? non è stato un po' molto facile, perché i ragazzi sono stati 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 e quindi i ragazzi sono stati 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 stat Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Non, 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 non. Sì, 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 sì. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E' la mia voce rotta. La mia voce non è una notizia, ma non è un po' azzia, ma è la mia voce. La mia voce è la mia voce è la mia voce, ma magari sfruttava la mia voce è la mia voce, si dice che ci dice che ci dico che dice che sa il mondo che sa il mondo si è andata e non, ci diciamo fanno qui che i bambini i bambini sempre senti si Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 Converso che diccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. per aver guardato il nostro canale il nostro canale. Questo è il pollice di appartamento della base, e di avervi un prodotto, ci sono e rifiuto in un caso, ma vi adora ad ora, oltre a parte di Australia, la parte tra i dei clinici, e non con un prodotto, una parte di quello che vi ho avuto, che è proprio in un prodotto, un prodotto più che è inserito. Avell'occhiSTA, comeccolo il prodotto, il prodotto per il loro frattamento e che ne sono 69. Ma inserito tutto questo è cons praised. Grazie a tutti